Onorevole Davide Caparini, c'è qualche modo per non pagare il canone RAI? Sì, ce ne sono due, entrambi previsti dalla legge. Il primo è quello di cedere l'apparecchio televisivo, il secondo è quello di chiederne il suggellamento. Ma che cos'è il suggellamento? È la richiesta da parte del possessore dell'apparecchio televisivo di impacchettarlo di fatto, ovvero due funzionari della Guardia di Finanza a domicilio si presentano e impediscono la visione del televisore mettendolo in un sacco. Ma poi vengono a controllare? Lo fanno, no, lo fanno solo una volta e dopodiché ovviamente l'apparecchio televisivo va tenuto in cantina, o comunque stiamo parlando del vecchio apparecchio televisivo. Mi è arrivata una lettera con la quale la RAI mi sollecita a pagare il canone, ma io non possiedo un televisore, ho fatto la disdetta, che cosa devo fare? Beh, quella lettera è un tentativo da parte della RAI di pescare nel mucchio, ovvero probabilmente chi l'ha ricevuta non è possessore di un abbonamento, perché ce l'ha il marito, la moglie, il fratello, il genitore, e la RAI ci prova, avendo nel suo indirizzo il suo nome e cognome, manda questa lettera, ma ovviamente non è necessario rispondere alla lettera e altrettanto ovviamente non è necessario pagare il canone RAI, perché già nel nucleo familiare qualcun altro lo sta già pagando. Onorevole, ma è vero che la RAI può mandare la Guardia di Finanza a casa mia per controllare se ho il televisore? No, assolutamente non è possibile. Si può evitare di pagare il canone facendo sigillare i soli canali RAI? No, anche questo non era possibile tecnicamente quando è stato istituito il canone RAI, oggi magari lo sarebbe, ma non è previsto dalla legge, perché la legge fa corrispondere al canone RAI il possesso dell'apparecchio televisivo e quindi indipendentemente dai canali che si vedono. Si deve pagare il canone televisivo se non si ricevono i canali RAI per la mancanza di ripetitori o di altri motivi tecnici dei quali è colpevole la RAI? Purtroppo sì, anche qui la RAI chiede comunque il pagamento dell'apparecchio e dell'abbonamento perché si è in possesso dell'apparecchio e non perché si ricevono i canali RAI. Si deve pagare il canone RAI se si abita in una zona in cui non si riceve alcun canale televisivo? Purtroppo anche qua bisogna pagare il canone RAI anche se non si ricevono i canali RAI in quanto si è in possesso di un apparecchio radio televisivo. Molto spesso in questo periodo capita che ispettori RAI bussino alla porta chiedendo la sottoscrizione di nuovi abbonamenti ma queste persone sono veramente ispettori RAI? No, sono dei venditori porta a porta e molto spesso anche utilizzano questo si freggiano di questo nome di ispettore che assolutamente non corrisponde al vero raggirano le persone, magari di anziani, in buona fede ma magari anche spaventandoli noi abbiamo più volte denunciato questa cattiva pratica sia alla RAI che all'autorità e l'autorità ha anche condannato la RAI per questa pratica fanno sottoscrivere l'intenzione a pagare un abbonamento quindi qualora poi il figlio tornando a casa scopre che c'è stata questa inopportuna visita comunque non deve pagare canone RAI in quanto il bollettino sottoscritto non ha alcun valore è semplicemente una prova che utilizzano questi venditori per farsi pagare la provvigione. A coloro che vedono queste persone vuole lanciare un appello? Beh sicuramente è quello di non accettare le provocazioni e comunque non cadere in questo terribile tranello io so anche di casi di persone che non avevano l'apparecchio televisivo in casa anziani che spaventati hanno sottoscritto l'abbonamento quindi aiutiamo anche chi più anziano magari di fronte a qualcuno che millanta una qualsiasi autorità si lascia ingannare ecco aiutiamoli a capire che questo non è il caso che bisogna essere sempre gentili però lasciarli fuori dalla porta di casa.